La quarta dose di vaccino anti-covid è stata istituita da qualche mese a questa parte in ben 6 paesi. Dopo l'iniziale apertura da parte di Israele a scegliere di fare o meglio di somministrare la quarta dose sono stati gli Stati Uniti d'America, l'Ungheria, la Danimarca, la Germania ed infine la Spagna. I dati però sugli effetti non sono ancora tanti, non sono ancora rilevanti, tanto che lo stesso virologo intervistato di recente, un virologo ha detto, dubbi ci sono sull'efficacia di questa quarta dose di vaccino. Nella storia delle vaccinazioni saremmo arrivati a dare 4 dosi di vaccino ravvicinate tra di loro in maniera così elevata, il massimo sono state 3, con le prime due ravvicinate, la terza invece distanziata, dopo quindi un po' di tempo. Insomma, non ci sono dati, diciamo così, rilevanti a proposito di una presunta pseudo validità di una quarta dose vaccinale sia ben chiaro e di conseguenza non si può, diciamo così, stabilire se questa quarta dose possa essere efficace, rilevante oppure no. Detto questo, grazie a tutti, il video termina qua, il primo paese vi ricordo che, diciamo così, ha istituito la quarta dose è stato proprio Israele e ci troviamo in Medio Oriente. Il video termina qua, ciao da Leandro, narratore italiano.